La prima cosa che ti viene in mente è pensando all'energia. Luce, sole, la lampadina, una persona che salta e ride, la corsa, un temporale dei tuoni e poi l'arcobaleno, una distesa verde, un albero, Einstein, Lamborghini, sole, non lo so, un ragazzo che corre, le paleoliche, penso alla corrente elettrica, le scariche elettriche, energia rinnovabile, sole, fotovoltaico, pannali solari, la bolletta della luce, tutto ciò che si muove, che si crea, che è intorno a noi. ESA. Tutta l'energia d'Abruzzo.